Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi, ennesimo gioco della rubrica Non Solo Indie. Sui Non Solo Indie tendo a portarvi quei titoli AAA che mi hanno colpito, che mi hanno affascinato, che mi hanno preso, soprattutto vedersi Archage e tanti altri. Lo porto quando è totalmente fuori moda un titolo del genere perché non per pubblicizzarvi il nuovo Valhalla Assassin's Creed, questo è Assassin's Creed Odyssey, ecco, mi stavo dimenticando di dirvi che cos'era, ma sicuramente l'avrete già riconosciuto. Non lo faccio, non lo porto per pubblicizzarvi Valhalla che uscirà a novembre, tra l'altro uscirà in una data abbastanza sfortunata perché il giorno dopo, se non sbaglio, due giorni dopo esce Cyberpunk. E quindi, insomma, un po' così. Ma perché l'ho iniziato a giocare cercando un gioco di ruolo, così, single player, da farmi con calma e mi ha preso moltissimo per quanto io l'avessi già iniziato quando è uscito oltre due anni fa, ma alla fine non ero andato avanti. Quindi ho detto, perché non fare un video di qualcosa che mi prende e che magari il video mi esce anche piuttosto bene? Non lo so. Comunque, ho scelto di ricominciare facendo Cassandra, perché all'inizio potete scegliere tra due personaggi, Alexios o Cassandra, sono entrambi comunque imbischiati nella trama principale, quindi se sceglierete uno e poi incontrerete nella trama l'altro. Mi ha colpito molto perché, beh, inizio col dirvi che la mappa, lo faccio adesso, lo spiego per chi non la conoscesse, queste sono le mappe che ho esplorato. E guardate quanto è grossa la mappa di gioco. E voglio subito, diciamo, smentire, non è noioso, per quanto ci sia una caratteristica che io non gradisco molto. Ogni regione ha un livello, vedete, un range di livello. Una volta che raggiungete, diciamo, il livello massimo, insomma, di quella regione, esempio qua vedete 34, 38, quando raggiungete il 38, la regione si livella in automatico al vostro livello. Infatti Cefalonia era un livello dall'1 al 10, dall'1 al 12 mi pare, e ora segue, diciamo, un po', quello che è più o meno il mio livello. Adesso ovviamente è più bassa, io sono al 14, qui è rimasto al 12, però bene o male si autolivellano, da quello che ho capito. Non ho esplorato praticamente niente ancora della mappa, ma ho vagato, sono zone veramente enormi. Vi spiegherò in questo breve video che cosa mi ha preso. Allora vi dico che The Assassin's Creed non ha moltissimo, se non l'animus con cui la protagonista viaggia nel passato cercando di scoprire informazioni tra assassini, templari, insomma, cose del genere. La cosa che mi ha stupito molto di questo titolo, e ora intanto inizio a spostarmi dove devo andare, è la parte settentrionale del Sacraterra di Apollo, quindi ho usato la funzione Esplora, questa è una delle cose interessanti di questo titolo, perché potete giocare con il punto che vi indica dove andare, oppure scegliere di farvi indicare più o meno una zona settentrionale, quindi credo che sia lì, ve lo evidenzia, quindi credo che sia proprio lì. Quindi adesso andiamo di là, intanto vi parlo ancora di questo gioco, poi vi faccio vedere anche un pochino i menu, il crafting, insomma, vedremo un po' tutto. Allora, le quest secondarie mi hanno colpito molto perché, ma questo lo sapevo già, perché non sono banali. Poco fa mi sono imbattuto in una quest che sembrava banale, stupida, da MMORPG, cioè, prendimi quelle foglie lungo il fiume, faccio 100 metri, prendo le foglie, consegno alla medicina ai miei pazienti. Ho consegnato la medicina ai pazienti, i pazienti lasciavano un pochino trasparire un po' di preoccupazione per questa persona, che è un medico, alla fine. E niente, torno indietro, dico, guarda, ho consegnato, e alla fine ho scoperto che la missione non era finita lì. La missione era tutt'altro. La missione era scoprire dove fosse finita una persona della famiglia di questo medico, che aveva avuto un passato difficile e un passato, tra l'altro, che aveva a che fare anche col nostro passato, perché era probabilmente la responsabile di una tragedia che era successa direttamente nella nostra famiglia. Quindi, vedete, questa è una banalissima quest secondarie, ma vi dico la verità di secondarie non ne ho viste più di tanto di banali, anzi. Ok, ho trovato la zona, ho capito qual è, lì c'è anche una grotta, magari esplorabile, e così andiamo a fare questa cosa. Inizio a farvi vedere un attimino, allora, quello che mi ha colpito è che i menu continuano ad aggiungersi. Allora, avete le missioni, dove di missioni avete tante che ve ne vengono date da subito, anche i DLC, ma richiedono un livello preciso, quindi è obbligatorio essere dello stesso livello. La cosa che io lamentavo è il fatto di non poter uccidere con un colpo. In realtà potete uccidere con un colpo tutti quelli che sono di pari o inferiore livello. I boss, invece, diciamo, i capi a campamento, no. Se sono di pari livello, più o meno li portate a metà vita. Se siete di livello superiore, sì, li uccidete subito. Quindi è una cosa che mi ha fatto stracciare il naso, ma alla fine è giusto, perché alla fine è un personaggio che cresce, va a confrontarsi con persone sempre più, diciamo, passatemi il termine inglese, schillate. E quindi, secondo me è giusto così. Quello che dovete fare, però, magari per alcuni può essere fastidioso. Perché io sono qui? Perché io ho fatto tutto. Sono andato a fare... Non ho ancora scoperto tutto, però vedete che tanti luoghi li ho fatti. Voi scoprite dei luoghi. In quei luoghi dovete magari svolgere queste cose. Cioè, trovare il tesoro, uccidere il capitano. Non le ho fatte tutte. Ho fatto tutta la zona qui. Ho fatto anche una battaglia, perché alla fine, all'interno di una regione, quando voi la indebolite, cioè demolite risorse spartane o ateniesi, potete, una volta che la regione è debole, quindi un po' allo sbando, potete fare l'attacco dalla parte degli spartani o da parte degli ateniesi. Insomma, questa è un'altra caratteristica di questo titolo. Quello che io ho fatto, sono arrivato ad Atene. Atene è stupenda. Ve la faccio vedere solo dall'alto, perché l'Acaropoli, poi dall'Acaropoli, vedere tutta la città, è veramente uno spettacolo che io non ho mai visto in nessun altro gioco, credo. Nessun gioco ha una città così grande, così dettagliata. Sono arrivato qua e le missioni che ricevevo erano di livello 14, 15 o 16. E io ero livello 13. Quindi ho detto, vediamo un attimino dove posso tornare. Sono tornato in un'altra zona, ma erano tutte più basse, le missioni non ce ne erano. Sono qui e sono tornato qui, in una delle prime zone, e mi sono messo a completare un pochino di quest, lasciate indietro. Quindi è un gioco che vi obbliga a fare quello. Ma in realtà avete anche altre attività. Vi mostro, vi spiego di cosa sto parlando. Potete fare delle missioni di tipo della storia, insomma, o quest secondaria che trovate qua all'interno. Ma anche delle missioni qui nelle bacheche, che sono cacciatori di taglie, missioni di assassini, missioni di caccia. Ma anche delle missioni giornaliere, che potete prendere in giro. Le missioni cambiano di giorno in giorno. E quando avete fatto le missioni giornaliere, vi viene data una valuta supplementare, oltre alle drachme, che è la moneta di gioco. Con quella valuta in più, che è questa, i minerali di ricalco, potete acquistare oggetti cosmetici. Cambiare il cavallo, cambiare l'estetica della vostra armatura. Qua vabbè c'è Peric, è una persona che governa e devo scegliere se sta dalla sua parte o no, non lo so ancora. Sto divagando. Quindi missioni giornaliere, che ce ne sono, missioni in che vi amare, pirati e cose varie. Quindi se vi attenete, diciamo, alle quest della zona che trovate in giro, senza fare magari le bacheche, perdervi via un'attività, dovete un pochino grindare, quello è vero. L'inventario, vi mostro un'altra cosa. L'inventario è un inventario che segue il vostro livello, nel senso che potete trovare pezzi sempre più belli, sempre più di alto livello. Tuttavia, potete fare diverse cose. Potete o continuare a cambiare equipaggiamento, oppure, io qua ho la spada di Nicolau, potete andando dai fabbri decidere di potenziarla, spendendo drachme, spendendo materiali, e quindi livellarle e farle salire insieme a voi, se un'arma vi piace. Potete anche inciderle, e quindi vedete quella che esce qui, quella evidenziata, il danno, sono le incisioni. Potete andare a incidere, sempre da un fabbro, il vostro equipaggiamento, e quindi dargli delle cose in più, che più andando avanti di livello, più ne sbloccate, insomma, di nuove da poter acquistare. Le abilità sono Tarema Rami, più la lancia, che facendo fuori dei membri dell'assetta, che adesso vi farò vedere, potete andare a potenziarla, ed è una lancia, che è un'arma supplementare, che avete sempre equipaggiato, e si lega ad alcune abilità, che io ho preso, adesso userò e vi farò vedere. Quindi, qua potete potenziare le, diciamo, passive, ma passive non solo, tipo la precisione di Icaro, che è il falco che osserva per voi, il balzo, se vi fate male o meno. Potete potenziare il ramo di cacciatore, guerriero, assassino. L'inventario, anche qui si divide tra tre tipi di danno. Il danno da guerriero, vedete che in questo caso fa danno da guerriero sia l'arco che la spada. Guerriero, guerriero, cacciatore, danno da cacciatore, danno da assassino. Io ho comprato, spendendo 5.000 drachme, il secondo set, in modo da poter, magari più avanti, tenermi due set, un set d'assassino, un set da guerriero, in modo da poter passare da uno all'altro. 35.000 al prossimo set, quindi, vabbè, insomma. Le abilità le abbiamo viste, la nave. Noi ci sposteremo nell'antica Grecia con una nave, questa, la d'Arestia. E per potenziarla, in questo caso, possiamo andare a spendere delle risorse, dell'oro, del legno, delle pelli, potenziando le frecce, potenziando il danno che facciamo con i giavellotti, potenziando i braceri, quindi poter tirare giavellotti incendiari con più danno, il danno delle armi per speronare. Aumentando lo scafo, andiamo ad aumentare anche il numero di luogotenenti, di persone, che possiamo portare con noi a bordo e tenere sul ponte, che ci danno, di conseguenza, dei bonus. In questo caso io ne ho uno che mi dà 6% nave e 6% corazza, scusate, 6% corazza nave e 6% corazza nave, quindi un più 12. Anche qui, per potenziare tante cose, vi serviranno delle materie prime e delle materie rare, che sono quel simbolino lì della roccia, del frammento di roccia. E anche lì si grinda, perché i frammenti di roccia, o si usano guida strategica, o si esplora tutto, o si trovano all'interno di alcuni accampamenti. I mercenari mi ricorda molto, invece, una... c'era anche in... non era origin... mi ricorda molto, però, un sistema simile a quello dei capitani, più o meno, come funzionalità, di Shadow of the War, Shadow of the Mordor. Praticamente più fate casino in giro, più vi mandano addosso degli assassini, e hanno già uccisi parecchi, e ce ne sono veramente un'infinità. Quindi, loro vi trovano, li attaccano, li uccidete, e anche gli ottenete importanti, diciamo, premi, che possono essere armature, appunto, del mercenario. Concludo dicendovi che la setta... scoprirete all'interno del gioco che c'è una setta che non si sa, sono tutti mascherati, vi infiltrerete all'inizio del gioco, quindi, insomma... e dopo qualche ora, una decina di ore di gioco, sbloccherete questo menu. Man mano li uccidete, man mano ottenete dei pezzi per potenziare la lancia, insomma, e queste persone, devo ancora capire bene come scoprirla. Una l'ho trovata per caso, questa l'ho uccisa, ero lì, combattevo in un accampamento, e c'era un membro della setta, ucciso, me l'ha segnato, ucciso. In realtà, altre, avete degli indirizzi, diciamo, è magazzino della Megaride, quindi cercherò, probabilmente nella Megaride, ho lasciato indietro qualcosa, posso andare a vedere qui se c'è qualcosa, Focide, Megaride, probabilmente, sicuramente, perché la Megaride è bella grande, è composta di più regioni, e sicuramente non ho esplorato tutto, quindi sicuramente c'è... qua c'è una missione, qua c'è un luogo, quindi sicuramente qua da qualche parte, e andrò a ucciderla. Ora, andiamo a usare le abilità. Mi muovo con circosprezione, e attaccherò il cinghiale con la lancia di Leonida. Se posso. No, non posso, però posso usare questo. Ti do un calcio. Con l'arco posso usare il lancio alla tripla freccia. Sta scappando, perché sta scappando. E... Eravamo messi in chi discretamente. Bene! Mamma mia. Si è curato, quindi... È tosto, eh. Anche se sono un livello sopra, insomma, userò l'abilità. E gli ho tolto un po', ma diciamo che non scherza nemmeno lui. Quindi, secondo me, è ancora un po' presto per affrontarlo. O almeno, dovrei... Dovrei... Tornare dopo, magari dopo aver cambiato un po' di cose. E una volta che poi si muore, si passa, diciamo, nella desincronizzazione. Intanto fammi prendere del legno, che è sempre utile. Beh, un'altra cosa che potete fare è sfruttare l'ambiente. Quindi se qua arrivasse il cinghiale, io gli dessi un calcio, lo farei volare giù. Sarebbe una tattica, anche per magari affrontare persone di livello incredibilmente più alto del nostro. Vedete che io volevo attaccare con la lancia, ma probabilmente me lo fa fare solo gli umani, la lancia di Leonida. Allora, scusami, vieni qui. Eh, non si avvicina qui. Vieni, vieni. Allora, dicevo, se affrontate qualcuno che è magari dieci livelli più del vostro, lo buttate giù di qui e muore per forza, però diventa una cosa un po' un po' così, un po' artificiosa, insomma. Vabbè, scappa lì dentro, insomma, non sarà facile uccidere questo affare qui, però ci proveremo. Uia, fa anche un botto di danni. Dovrei potenziarmi mettendomi equipaggiamento da cacciatore in modo da potergli far più danno. Guarda, dargli il calcio. Perché poi possiamo anche andare a colpirlo col tasto, con un shift, io gioco con un mouse e tastiera, per potergli far più danno, un po' come l'attacco pesante di Dark Souls. Allora, in realtà, lo scopo di questo video qual è? Non abbiamo visto molto di gameplay, come ogni mio modo di fare, quello di farvi appassionare a un titolo. E ho voluto parlarvi di un pochino di quello che ha da offrire. Sicuramente, se lo andate ad analizzare così, in modo molto superficiale, vi posso dire che la prima volta lo avevo ritenuto un gioco piuttosto ripetitivo. Ma dipende sempre che cosa state cercando, perché qua la componente storia è piuttosto forte, quindi adesso qua vediamo se riesco a fare quello che ho in mente di fare. Tanto, vabbè, meglio di niente, gli ho battuto qualcuno. Niente, quello lì è veramente un osso duro. C'è una forte componente storia, dicevo, e si vede che il gioco è curatissimo dal punto di vista storico soprattutto, quindi vi fa appassionare, vi fa impiangere di non aver avuto magari un titolo del genere quando andavate a scuola voi. Quindi insomma, questa è una mia valutazione, un mio consiglio per gli acquisti questo di Assassin's Creed Odyssey. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, sicuramente avete già visto i video se siete interessati, se siete qui invece perché magari volete vedere un altro parere di qualcuno o siete semplicemente incuriositi del perché io ho portato un gioco del genere. Ecco, il motivo credo di averlo riassunto in questi minuti. Alla prossima ragazzi, attendo i commenti, ciao ciao!